30 dicembre 1997, gruppi di fanatici integralisti appartenenti al GIA massacrano più di 400 civili, fra cui molte donne e bambini, in tre diversi villaggi della regione del Relizan in Algeria. È solo una delle tante stragi compiute dal gruppo islamico armato fra la popolazione algerina, iniziate all'indomani dell'annullamento delle elezioni del 1991, che avevano visto la netta affermazione del partito islamico. In circa dieci anni, le vittime di questa guerra civile saranno più di 200.000.